Rogo del Peppe Nappa e fuochi piromusicali hanno concluso il Carnevale di Sciacca 2017. Non era facile con sei carri dilatare i tempi dello spettacolo sul palco di Piazza Angelo Scandaliato, ma l'obiettivo di arrivare a concludere la festa alle 3.45 del mattino, come avveniva negli anni in cui in concorso però c'erano 10 e persino 12 carri allegorici, è stato raggiunto. E' un contributo arrivato anche dai tanti, ringraziamenti agli sponsor e saluti ad amici e parenti che hanno infarcito le ultime esibizioni sul palco, prima del rogo della maschera simbolo del Carnevale. Si sa, non si vorrebbe mai far finire questa divertente festa e del resto, nonostante l'orario, la Piazza Angelo Scandaliato era gremita e pazienza se tanti altri hanno dovuto rinunciarci, contrariamente allo scorso anno quando la manifestazione si era conclusa intorno alla mezzanotte. Una bella edizione, quella che si è appena conclusa e non era facile, viste le premesse. La 117esima edizione del Carnevale di Sciacca un record lo ha sicuramente stabilito, quello di aver assicurato la copertura finanziaria all'evento con l'approvazione del bilancio solamente a due settimane dall'inizio della festa e in un contesto che non è più il caso di ricordare. Un dato è certo, Sciacca ama il Carnevale, questa è una tradizione che non si può perdere, lo si evince dalla grande partecipazione e dalla bravura delle maestranze locali. Belli, veramente belli i carri allegorici in concorso quest'anno, per le decorazioni artistiche, l'innovazione nei movimenti, la qualità complessiva che hanno assicurato i carristi in pochi mesi di lavoro e nelle condizioni precarie dei garage dove sono loro malgrado costretti ad operare. Un apprezzamento da estendere agli autori di inni e copioni, ai coreografi e ballerini, gruppi mascherati che sono finalmente tornati al loro splendore, sia per i costumi, sia per la grande partecipazione di giovani, non solo di bambini, in controtendenza rispetto agli anni passati. Ed è questo il divertimento che dovrebbero privilegiare gli adolescenti saccensi piuttosto di vedere il Carnevale come l'ennesima occasione per ubriacarsi. Un tasto dolente questo, che persiste, che al di là delle campagne di sensibilizzazione va attenzionato probabilmente in maniera diversa e non solo durante i giorni della manifestazione carnascialesca. Tornando all'edizione appena conclusa, va citata anche una circostanza alla quale non eravamo più abituati, quella di avere condizioni meteo favorevoli. Da tantissimi anni non succedeva che il bel tempo accompagnasse tutti i giorni della manifestazione. E adesso siamo arrivati a sei giorni di sfilate, ma sette di festa, con l'introduzione della novità del concerto dei Tinturia di venerdì. Anche il doppio fine settimana, introdotto lo scorso anno proprio per l'esigenza di recuperare le giornate di spettacolo annullate a causa della pioggia, quest'anno può considerarsi riuscito e consolidato. Ma il dilemma alla fine rimane sempre lo stesso. È un Carnevale per i saccensi o per turisti e visitatori? Nel primo caso va tutto bene. Volendo si potrebbe intervenire giusto per risparmiare qualcosa da investire nelle tante altre esigenze della città e perché no per altre manifestazioni come l'estate saccenze. Ma se la belletà è quella di un Carnevale per visitatori e occasione di grande ritorno economico, allora tante cose ancora dovrebbero essere cambiate. Non è sufficiente lo sforzo di essere riusciti nelle due domeniche a posizionare i carri in parte del centro storico. Quanti sin dal mattino sono arrivati a Sciacca hanno visto ben poco di quello che è lo spettacolo dei carri in movimento, delle musiche, dei balli, soprattutto se hanno lasciato la città in prima serata. Almeno nelle giornate di maggiore affluenza, il sabato e soprattutto la domenica, l'inizio della sfilata dovrebbe essere anticipato, consentendo alle tante persone che hanno scelto di venire a Sciacca di assistere realmente allo spettacolo del Carnevale, che trova la sua massima espressione nelle esibizioni sul palco di Piazza Angelo Scandaliato. Poi la festa per i saccensi potrebbe proseguire fino a tardanotte, magari invertendo l'attuale organizzazione e dando spazio in seconda serata e non alle 19 alle performance dei gruppi musicali che ripropongono gli inni storici del Carnevale. Non è facile, certamente, cambiare abitudini e una organizzazione in cui ancora c'è una larga componente di anarchia. Addirittura ieri sera un carro ha ripetuto la sfilata. Ma una scelta va fatta e anche in relazione alla gestione della manifestazione, imbrigliata nel limbo tra pubblico e privato con oneri a carico del Comune e profitti a beneficio di altri. Insomma, come sempre, luce ed ombre di una festa che rimane la più amata dal popolo, ma anche la più discussa.